Windows 7 e comando trim, alcune anticipazioni. Sony Ericsson Xperia Pureness, display trasparente. Nexus One, Google è pronta con il suo cellulare. Spike Video Game Awards, diversi annunci tra cui spicca il nuovo gioco su Batman. Microsoft Windows 7, installazioni e upgrade le fasi più critiche. Bentornati al consueto giro settimanale nella redazione di Hardware Upgrade. Lascio subito la parola ad Alessandro per alcune considerazioni su Windows 7, il comando trim e i solid state drive. Non è tanto tempo che Intel ha presentato la seconda generazione dei propri solid state drive, conosciuta appunto come generazione 2, basati su chip NAND flash da 34 nanometri. Una nascita particolarmente sofferta in quanto anche in questo caso la prima versione di firmware sembrava essere afflita da un problema legata alla protezione della password e problemi conseguenti. Da circa una decina di giorni Intel ha rilasciato una nuova versione di firmware che permette di abilitare il comando trim sotto Windows 7. Disco alla mano abbiamo provato a fare qualche test con tutte e due le versioni di firmware. Pur dichiarando Intel un miglioramento prestazionale in scrittura in seguito all'aggiornamento del firmware abbiamo osservato il contrario. Principalmente invariata la velocità di scrittura e lettura sequenziale dell'unità. Sorprese e non tanto belle per quanto riguarda quelle random in pacchetti da 4K e da 512K. Prima dell'aggiornamento firmware abbiamo infatti registrato valori rispettivamente di 90 MB al secondo e 56 MB al secondo. In seguito all'aggiornamento i valori sono scesi rispettivamente a 53 MB al secondo e 31 MB al secondo. Si tratta di test preliminari che richiedono ovviamente degli approfondimenti, proveremo a rifare i test e tutto. Certo le premesse non sono incoraggianti in quanto abbiamo cercato di svolgere i test nel modo migliore possibile badando a non commettere degli errori. Ci riserviamo quindi di effettuare nuovi test probabilmente durante le vacanze di Natale per aggiornarvi sullo stato dei fatti. Talk Text Time. Questo è il nuovo motto con cui Sony Ericsson lancia l'ultimo suo cellulare l'Xperia Pureness. Dopo che LG aveva puntato sul tastierino numerico a scorrimento sensibile al tocco trasparente, ora Sony Ericsson invece punta sul display trasparente. Sony Ericsson Pureness Xperia infatti è un cellulare monoblocco con tastierino alfanumerico dotato di display a cristalli liquidi totalmente trasparente. Particolarmente miniaturizzato nel corpo integra una batteria non rimovibile, memoria da 2 GB e connettività HSPA. Dedicato ai fashion addicted e agli amanti delle cose esclusive include l'abbonamento per un anno a Pureness Concierge, un servizio di supporto personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per l'organizzazione di eventi, per la gestione della vita quotidiana o per soddisfare i desideri più particolari Da prima sono arrivati i tweet dei dipendenti di Google e dei loro amici, dopo alcune foto e in seguito anche un video. Da ultima è arrivata la richiesta di registrazione del marchio Nexus One da parte di Google. Mettendo insieme tutti gli elementi si arriva a una certezza. Il colosso di Mountain View sta lavorando al Google Phone, forse non del tutto soddisfatta di come la piattaforma Android sia arrivata sul mercato. Come nel caso dei primi G Phone il costruttore HTC, ma in questo caso il marchio dovrebbe essere quello di Google che sembra essere intenzionato a curare direttamente lo sviluppo del software, si parla di Android 2.1 e l'integrazione con l'hardware. Staremo a vedere se sarà questa effettivamente la svolta definitiva per la piattaforma Android. Sabato scorso si è tenuta a Los Angeles la serata degli Spike Video Game Awards, ci dice tutto Rosario. Sabato scorso si è tenuta a Los Angeles la serata degli Spike Video Game Awards, l'evento che preme i migliori videogiochi della scorsa stagione videoludica. Molti produttori ne hanno approfittato per annunciare i titoli di riferimento della prossima stagione, i loro blockbuster. L'annuncio più importante è il seguito di Batman Arkham Asylum, l'action adventure con elementi da picchiaduro e da gioco stealth sviluppato da Rocksteady, team che ha vinto anche il premio come sviluppatore dell'anno. Il nuovo videogioco su Batman non sarà ambientato solamente nel manicomio di Arkham, ma la maggior parte delle vicende si svolgerà sulle strade di Gotham City. Inoltre sarà data più libertà al giocatore, oltre a darle quine al Joker, nel cast dei cattivi comparirà anche due facce. L'altro annuncio di rilievo riguarda Star Wars Il Potere della Forza 2. Anche in questo caso ci sono pochi dettagli sul gameplay, ma c'è il piccolo teaser trailer che state vedendo in questo momento. Sono state confermate le componenti tattiche di gioco d'azione con la presenza degli Jedi e dei loro poteri. Il gioco è sviluppato internamente a LucasArts e se si ripete quanto accaduto con il predecessore, uscirà prima su PlayStation 3 e Xbox 360 e solo in un secondo momento su PC. Il primo capitolo era sviluppato su tecnologia Ronin, ovvero una combinazione dei middleware Avoc e Digital Molecular Matter per la gestione della fisica ed Euphoria per la gestione dei rapporti tra modelli poligonali e scenari e per le animazioni. Activision inoltre ha annunciato il terzo capitolo della serie Free Roaming True Crime. Ambientato ad Hong Kong mentre i predecessori erano ambientati in America, True Crime porta i giocatori in diversi quartieri e presenta diverse missioni e attività sandbox. Il gioco introduce anche diversi personaggi con i quali interagire e avrà una componente narrativa più sviluppata rispetto ai predecessori. Arriverà nell'autunno del 2010 nei formati PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Microsoft e Bungie hanno mostrato per la prima volta delle immagini concrete di Halo Reach, il nuovo sparatutto dell'infinita serie sulla guerra con i Covenant. Halo Reach è un prequel della celebre serie e si impersona un soldato Spartan. Reach è una colonia umana su cui si svolge l'addestramento dei soldati e la costruzione delle navi da guerra. Inoltre è qui che il progetto segreto Spartan prende vita. Il giocatore potrà impartire ordine a una squadra d'assalto mentre il multiplayer è stato rivisto e adesso basato sull'acquisizione di esperienza come accade nei giochi della serie Call of Duty. Per l'occasione Bungie ha rivisto il motore grafico adottato in Halo 3. A pochi mesi dal rilascio è possibile fare alcune considerazioni sul passaggio degli utenti a Windows 7. Primo fatto, il 95% dell'utenza non ha avuto problemi a fare il passaggio da un sistema all'altro perché ha comprato un PC nuovo su cui ha trovato il sistema operativo preinstallato. Il 5% che invece ha deciso di passare a Windows 7 da un sistema precedente con la procedura di upgrade o con un'installazione da zero ha invece riscontrato qualche problema. Questi ultimi hanno incontrato problemi nel riconoscimento delle periferiche, scheda video e lettori DVD su tutti oppure si sono scontrati con alcune novità introdotte con la nuova versione. Su tutte la mancanza di alcuni software come ad esempio il client email disponibile invece scaricando online la suite Windows Live Essentials. Il problema in questo caso non è tanto la mancanza dei software preinstallati ma è la poca conoscenza da parte dell'utenza di dove andare a recuperare questi software. Problemi anche per chi ha deciso di fare l'upgrade da una versione precedente di Windows. Il 26% ad esempio ha segnalato parecchia confusione nei passaggi tanto da non riuscire a capire se e come il processo di aggiornamento e di trasferimento dei dati sia effettivamente avvenuto. Anche questo giro nella redazione di hardware upgrade si conclude qui. Vi rimandiamo alla prossima settimana.